appena incontrato mattia dalla valle pronto pronto per questa avventura super abbinato due ore e cinque per i nostri eroi 33 chilometri ci avviciniamo alla quarta cantoniera comincia ad iniziare a usare la prima crisi continuiamo in tre maschimpatia Com'è la forma? Ottima! Com'è? Mangio! Ottimo! Le vacche! Sì! 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 preso un'azoletta di zucchero mi ha dato l'energia per ancora un chilometro e mezzo di scatto, ho provato a fare un chilometro e mezzo di scatto per mollare i sosio niente da fare, sosio mi ha tenuto e... e poi l'azione è andata scemando niente da fare Mets staccato verso il settimo chilometro della... alla galleria la condizione non era delle migliori la gamba c'era? la gamba c'era ci rifaremo la prossima volta il motorino non funzionava tanto bene dai comment FAI COMMENTS FAI CATTIVO salta su... 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 SECTO! salto su Oh no! C'è prima! Vai davanti! La prima! Grazie a tutti.